Pronto? Pronto? Domani quando te ne porto? 200 o 300? 200 o 300? Quando non vuoi? Porta meno 150. Ah va bene. Non hai fatto come vuoi? Stai insomma, non è una cosa, ma qualcuno video non l'hai. E di? Ah si ok. 5. Va bene ok. Forza le cogliere dai, ciao. Oh si vuole? Si va bene, vuole meglio. Eh va bene, vi preparo. Si vuole meglio. Va bene. Allora con le mie sorelle va bene anche. Si. Ascoltando sulle due e mezza, viene il mio padre. Se ne mette uno e ti pare il suo. Poi verso le tre, tre e un quarto, tre e mezza vengo io e ti faccio gli altri due. Va bene. Tuo papà glielo devo mettere? A prima volta glielo deve mettere a me. Anche quello di mia sorella lo dividi e lo metti di lato. Io due. Grazie. Non hai spazio ninja? Eh chi? Eh, provare una droga rossa. Due eh. Sto arrivando qua, sono il mio padre. Va bene. Ciao. Ciao ciao. Gli ho messo un portaggio che vedi a me? Cosa? Ma la farei o ne faccio un bottaggio o no? Va bene, ora ci mando anche io in una città. Non li preoccupare, poi ci li faccio fare, dai. Ma lo fai ieri? Mi hai chiamato dopo. Ma la posso per toccare? Ha? Ma l'hai chiamato cosa ieri? Ah, vanno cercando il cliente. Ah, vanno cercando il cliente. Ma il prezzo è sempre chi tu è? Ah, non lo so, se no, rigu'hanno calato. Hanno calato il prezzo? Sì, sì. Sì, ma se non c'erano uno su Tarunno, io mi contanto già, che è il signor Tranquillo. Ah, certo. Eh. E' il massimo, il massimo, ma c'erano un paio da 50. Allora, vanno a vede. E' il massimo. E' il massimo, 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 andiamo a buon un perd composto, e' il massimo sotto! Elle era come gutti di loro, e' il massimo Ogni valore che sono dov e' bellissima risotto UTT 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.